Subete no burreza, ni konnochi wa, kono atarashi, video e yokozo Non so che cazzo io abbia appena detto, in teoria dovrebbe essere la mia intro tradotta in giapponese Ma Google Translate ogni tanto ti fa dire delle porcate, quindi non mi fiderei fossi in voi E comunque salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Una nuova mappa, una unfair map, che ormai è diventata una categoria sec, come vedete E a tema cactus ci sono dei blocchi tutti a tema cactus, quello non è un vero cactus E tipo ci sono i bottoni che sono di sabbia Non ho la Optifine perché non c'è ancora per la 1.13 a quanto pare E l'idea di fare questo video, e il perché c'è l'intro in giapponese è presto detto Stavo vedendo un video di uno youtuber di Minecraft giapponese Che mi è saltato all'occhio per due fattori Ha tipo una skin molto simile a un altro youtuber italiano E il suo collega si chiamava qualcosa Blaze, il che mi ha triggerato tanto E io ho detto, ah sì, tu mi hai copiato il nome E allora io prendo la mappa che tu hai fatto E la faccio anche in giapponese Perché oggi ho messo Minecraft in giapponese E potrebbe essere una gran cagata Perché non mi ricordo dove sta il bottone della lingua Quindi come faccio poi a tornare all'inglese, neanche l'italiano? Al di là del fatto che non mi ha realmente triggerato Ovviamente sto scherzando Ho pure filato perché ho ricercato lo youtuber e non era Blaze, era Blair Quindi mi dispiace un sacco ma non ho nessun cugino youtubico giapponese Ci sono rimasto malissimo Dovevo leggere meglio Giochiamo a Minecraft in giapponese E... boh, nel senso, non credo in realtà cambi nulla Perché la mappa è in inglese, quindi sti cazzi Però vediamo come si comporta la cosa Così anche oggi riuscirò a fare un titolo strambo in una mappa di Minecraft Cose, cioè, l'accesso non si apre Mi dice apri, l'accesso non si apre E c'è scritto qualcosa che non riesco a capire Io render dit, dit tense To hate or more Guarda, l'hai scritto così male che non lo farò The end, youp, I let you skip to the ending Io sai che ci credo poco The end Vabbè, morirò? Probabilmente sì Fammi schiacciare così vediamo Oh oh, sono morto Scritto in qualche modo strano Va bene, eh, non me l'aspettavo questo troll Devo dire la verità Era proprio qualcosa di inatteso Andiamo avanti Perché Ok, ha senso Quindi la cosa rossa Ti uccide Il blocco rosso ti uccide Cactus Jones will come for you Ok Ma anche il blocco verde ti uccide Ma sei un filibustiero allora Proviamo a passare Oh, al margine Top Poi arrivo qui, apro E sono caduto ancora Ma basta Ascolta, va bene tutto Ma, cioè, qua siamo già morti Fin troppe volte, eh Come devo fare? Se io dovessi cominciare da qui Ma siamo seri? Che Dai Ma, 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 ammazzato Ma, ma cosa? Diamine, devo fare Nella mia vita Ma me lo vuoi dire o no? Tutti sti bottoni Mi ammazzano Il pulsante qua Ehi Ehi Dropper A quello serviva la buca? Cactus Jones will come for you L'avrò già letto 85 volte Ma va bene Quindi se io Schiacciassi effettivamente Qui Posso andare Ok C'è del rosso lì Quindi penso che mi ammazzi uguale Devo stare attento Non andare sul rosso Please Please Oh, 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 ok Top Cosa Cosa devo fare? Per piacere Non mi Posso non morire ancora? Oh, ok Qui si sale Che top, ragazzi Così abbiamo superato il primo pezzo E ora? C'è un pulsante Che ovviamente mi uccide No Mi ha tippato su Tre luci uguale morte Una luce E mi ha fatto cadere giù Ok Cosa Cosa significa sta cosa? Mi sono tippato In un altro punto Ragazzi Aiuto È un parkour Che Oh, oh, oh Pezzo di Croto Sudato Dai Non c'è un checkpoint Devo fare tutto da capo Quindi questo coso Si tippa di là Appena io Oh E poi se ne va subito Pezzo di merda Non so che video fare oggi Cosa facciamo? Una mappa Le mappe sono veloci e semplici Da farle No Io devo essere diverso Da tutti gli youtuber Devo fare le cose complicate Con tutti i titoli strani Per fare l'originale Poi mi trovo Qui A perdere Mezz'ora di tempo In una mappa Che è unfair Quindi già di per sé Sleale Proprio Per definizione È una mappa sleale Quindi devo Fare Così subito Perché sono Dato oltre Perché Fermoli Fermati C'è un pulsante Da schiacciare Mi devo fidare Oppure no? Beh in teoria Non è che io abbia Molta scelta Vero? Ok Log remover Porche È vero che ho cambiato La lingua Ma che cosa cazzo Vuol dire sta roba? Allora Paga qui per piacere Una gemma Di smeraldo Paga pure qui E non dice niente Questo è un uomo libero È orribile Tipo Alla testa di Steve E lui è Quello che colleziona Le tasse Ok Quindi cosa devo fare Esattamente Io ti ho dato Lascia Mi ha ucciso Sto Non me l'ha aperto? Stai scherzando? Non mi ha aperto la botola Ma cosa vuol dire? Ma dai Questa la do a te Invece Cosa succede? Nulla Che è già meglio di morire Voglio dire Cioè E muoio Lo stesso Cosa devo fare? Cosa? Air and Blaze Ciu 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 Cos'è vuol dire lì? Ehi Ehi Che cos'è? Che cos'è? La morte La morte Che cazzo è quella roba lì? Aspetta 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 Yes Ok Emerald Diamante Che è sta roba? Si ricarica Questo è uno smeraldo Questo è un altro smeraldo Vabbè senti andiamoceno perché sto per soffocare Aia Aia No No Ok siamo salvi No dai No dai adesso che ho preso il coso non mi puoi uccidere Ma dai Ma dai Ma dai Ma ti prego Ma Perché non va più? Non posso prendere lo smeraldo Forse non devo prendere il diamante finto Ok non lo prendo Prendo questo Che è una merda Fammi passare Perché non mi fa più passare? Ma Ma perché? Ma fammi Non funziona più Oh Mi ha fatto passare ma Non mi vuole far prendere il vero Smeraldo Cosa vuoi? Uno smeraldo gem Giusto? Tieni Ma cosa devo fare? Cosa? Aiuto Oh Mi ha fatto scendere Aspetta Aspetta che In qualche modo Sembra girata bene la cosa Non morire qui Ok perfetto Ora io ti do lo smeraldo vero Guarda Yes Posso Sarà vero questa volta Yes Ok Abbiamo superato Non credo che tu possa andare sul verde E poi Saltare da verde a verde Perché è unfair Devo andare sul rosso Sono morto a mezz'aria Sì ma ogni volta devo rifare tutta sta pappardella Ci ho messo tre ore a far funzionare questa roba Dai che mi uccide pure a caso Ma cosa vuol dire? Dai no Che palle ste cose Io odio queste cose qua I blocchi con gli effetti Perché quando salti Il person... Vedi anche adesso sto nuotando sopra il blocco Non l'ho calpestato Ma Minecraft non capisce la differenza Funziona tutto a coordinata E quindi ti ammazza Anche se non è giusto Ma la mappa è unfair Quindi Eh Ti attacchi al cat Vedi Vedi Cat Oh mio dio Oh mio dio A parte che non sto più recuperando La fottuta Fane Per qualche ragione Ma Ok Ehm Ok Cosa devo fare? Sì Come ci arrivo lì? Hm? Devo andare sul muretto Non lo so Però mai Perché ho forso ancora No Era davvero così Cosa ho sbagliato prima Cioè il cactus mi diceva Che potevo saltare qui Ma qui non c'era nulla Il blocco era troppo lontano Era più di un salto di quattro Quindi era impossibile Pertanto Dovevo andare su questo muretto fake Che non è come l'altro È diverso come vedete E ora Io presumo Di dover andare qui Aspetta Log remover Rimuove Abbiamo pochi utilizzi però Ti prego Ti prego Fai sì che Che sia fattibile Oh mio dio È raccontato Oh mio dio È raccontato Ma questa è la fine È la fine Questa è la fine C'era arrivato anche prima Mi ammazza quindi Come funziona Ending Oh Not so fast Cactus Cactus Jones Let's play a game It's cold Colleziona Oggetti E combattimi Hai tempo finché Il tempo Sulla destra Non finisce Stai scherzando Crafta Diamond sword E wait For the time Devo craftare Una spada di diamante Allora Tree waker Posso spaccare L'albero solo con questo Poi qui c'è un cumulo Di roba Ok quindi devo Probabilmente Madonna Tutto è giapponese Tutto è giapponese in realtà Non cambia nulla Però Mi dà un botto fastidio Ok Ok Raga calmi Calmi un attimo Devi fare così Devi fare così Giusto Ok Così Ok 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 Ottimo Ottimo No Devo prendere questo Devo prendere ferro Qui c'è il diamante Si ferro Ferro Please Muoviamoci Ferro Anche lì Vai prendi il ferro Abbiamo tantissimo tempo Per fare sta roba Ma davvero Puoi fare una sfida del genere Dalla fine della mappa Diamine Muoviti Muoviti Fatto Fatto Allora prendi uno Due Prendi Vai 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 Piccone ce l'ho Ho il piccone Ho il piccone Me ne servono due Uno Due No sono fake Sono fake questi Van bene lo stesso Dimmi di sì Dimmi di sì L'ho fatta Ho fatto la spada Ho fatto la spada Ok Ok Finisce il tempo E' finito il tempo So you did it E' bene Sai che cosa accadrà dopo Devo combattere Devo combattere Devo combattere Merda Merda Quanto cazzo è veloce Quanto cazzo è veloce Ma stai scherzando Via Ok l'ho ucciso L'ho ucciso Ce l'ho fatta Ok Il pulsante finale Che mi aveva ucciso L'altra volta Non è che Si è finito davvero Si Ragazzi Abbiamo completato Questa mappa Orribile Bellissima Ma Fastidiosa Ci ho messo un'ora di tempo 56 minuti Quasi un'ora Sono contento E nulla Alla fine La lingua giapponese Non è servita a niente In realtà Però Però In compenso Abbiamo finito la mappa Quindi sono contento Lasciate un like Ci vediamo presto un altro video Ciao a tutti Abbiamo finito la mappa Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti